Lo so che manca ancora un po' di tempo ma mi dai un pronostico per questa sfida scudetto o meglio la sfida l'hanno ribattezzata dell'autostrada del sole tra Roma e Napoli dell'altro venerdì? Ma giustamente da napoletano tifoso del Napoli e ex calciatore del Napoli spero che il Napoli venga questa partita importante e io credo che abbia anche le qualità per farlo perché il Napoli crede che sia superiore alla Roma.